ciao ragazzi eccomi qua allora vi ripropongo un'analisi tattica come sempre vi ricordo come nel primo video in assoluto quindi l'analisi tattica di ventus genoa ci tengo a sottolinearlo non è così che si analizzano al 100% le partite chi fa il match analysis di professione chi utilizza la match analysis per creare contenuti per le squadre di calcio non lavora in questo modo io devo cercare di adattare quelle che sono le basi di questa professione con un contenuto che può essere anche interessante per voi da vedere perché ovviamente il contenuto viene portato su youtube io so che cosa piace alla mia utenza sono anche cose che io stesso vorrei vedere perché trovo interessanti e quindi cerco di adattare il tutto quindi come al solito vi invito a lasciare un mi piace a questo video per supportare tutto il lavoro che sto continuando a fare anche un pochino diverso no questa evoluzione del canale sempre verso livelli più alti si spera poi non so poi magari sono a mia impressione la vostra sensazione può essere completamente diversa e voglio sapere anche da parte vostra che cosa ne pensate di questi contenuti un po più articolati ecco costruiti studiati in un certo modo spero che vi facciano piacere come al solito vi invito a scaricare one football perché voi vedrete questo video nel giorno della conferenza stampa di allegri di vigilia di bologna juventus mentre io sarò insieme a chinosci su un aereo volando verso la sardegna dove si sposerà colpo gobbo ed è proprio su one football che andrò a recuperarmi la conferenza stampa ripresentazione di massimiliano allegri alla partita di sabato quindi scaricate one football per queste cose e per il mercato di gennaio il mercato invernale che sta iniziando e quindi la juventus dovrà per forza di cose e fare qualcosa sul mercato che cosa analizziamo oggi allora ho preso in considerazione 14 partite della juventus perché sono 14 perché ho preso la data in cui la juventus ha ricominciato a giocare dopo la seconda sosta dedicata alla pausa nazionale e quindi ci sono queste partite che state vedendo in sovrapposizione partiamo dalla vittoria per 1 a 0 contro la roma e arriviamo all'ultima gara giocata quindi quella a venezia dove siamo riusciti a portare a casa soltanto un punto un 1 a 1 che è ancora abbastanza amaro vi dico subito che andremo ad analizzare tutti i gol che la juventus ha segnato in queste 14 partite siamo andati in gol 12 partite su 14 contro l'Atalante contro il Chelsea non siamo riusciti a segnare nemmeno una rete e quindi per forza di cose la media si abbassa notevolmente di queste 14 partite togliendo le due gare in cui non abbiamo segnato abbiamo confezionato soltanto 18 gol per una media di nemmeno un gol punto 3 a partita per quanto riguarda la fase difensiva non siamo andati meglio perché se è vero come è vero che abbiamo fatto tanti 1 a 0 di fila tanti 2 a 0 di fila in 14 partite siamo comunque riusciti a prendere 13 gol quindi quasi un gol a partita perché vi dicevo che non è questo il modo di ragionare perché ovviamente quando cerchi di capire una squadra come attacca intanto prendi un numero ristretto di partite prendi le ultime 3, 4, 5 a voler esagerare e non prendi solo i gol fatti ma vai a vedere tutte le azioni che vengono costruite sulla falsa riga e quindi come si sviluppa la Juventus ma oggi invece voglio concentrarmi proprio su questo perché ho letto una statistica interessante su Twitter che ora vi riporto qui solo la Salernitana ha fatto registrare una percentuale di gol tiri in porta peggiore della Juventus i bianconeri hanno convertito in rete solo 19 tiri in porta su 77 effettuati rigori esclusi trovo veramente inaccettabile una statistica del genere e volevo capire come poi arrivava la Juventus a finalizzare perché è ovvio che la manovra tu la puoi costruire è ovvio che tu magari tiri in porta poco sì questo è vero però poi quella statistica perché è così? la Juve come fa a segnare? da cosa nascono i gol della Juventus? e quindi andiamo a analizzare gli ultimi 14 le ultime 14 partite giocate dalla Juventus e gli ultimi 18 gol segnati dai bianconeri perché? perché una partita può essere diversa dall'altra ci può essere la partita in cui domini ci può essere la partita in cui non giochi la partita che vinci a fortuna all'ultimo secondo la partita che vai a distruggere l'avversario dritto per dritto ma una cosa rimane sempre tu puoi segnare in tre modi differenti dall'esterno costruendo l'azione dall'esterno andando al cross dall'esterno cercando di rientrare dall'esterno per vie centrali quindi con un giocatore che ti fa la serpentina con un giocatore che ti fa l'assist con un 1-2 oppure su calcio piazzato questi sono i tre modi di segnare in assoluto e ora prima di iniziare l'analisi secondo voi su questi 18 gol quanti sono nati per vie centrali quanti sono nati per calcio piazzato e quanti sono nati per vie esterne scrivetemi le percentuali qui sotto nei commenti partiamo dalla partita contro la Roma qui vinciamo 1-0 gol di Moise Ken come potete vedere c'è il pallone in volo e qui Moise Ken colpisce di testa dopo l'assist di Desciglio vinciamo 1-0 quindi questo gol nasce palesemente dall'esterno perché Desciglio crossa dall'esterno e va ad effettuare appunto una pennellata per Ken che è in sacca di testa uno dei pochi gol di testa che abbiamo realizzato quest'anno e vedremo che questa cosa è finalizzata al nome di Moise Ken perché anche col Malmo è andata esattamente così un altro che crossava Bernardeschi ma il risultato è stato lo stesso il medesimo e quindi abbiamo il primo gol nato con un cross dall'esterno seconda partita Zenit Juventus copia e incolla con una volta Desciglio sempre a quella posizione con un altro piede non è più Moise Ken ma è Kulusevski Ken comunque è in area è andato a riempire l'area di rigore il risultato non cambia la Juventus vince 1-0 e il gol nasce allo stesso modo cross dall'esterno c'è un giocatore in area che la colpisce di testa questa volta di nuca e la palla entra due gol costruiti dall'esterno con l'Inter Paolo Di Bala pareggia verso la fine della partita 1-1 calcio di rigore col Sassuolo dove perdiamo invece all'ultimo secondo allucinante più ci ripenso è più allucinante quella settimana lì intorno ad Halloween eppure la Juventus qui segna con un cross di Di Bala McKennie andrà a colpire di testa e questo sarà il primo dei due gol che McKennie andrà a segnare in quei giorni lì ancora una volta McKennie questa volta col Verona qua l'ho cerchiato perché ne possiamo parlare questo è un gol che possiamo costruire in più maniere e cioè Weston è lì riceve la palla da Danilo è uno dei pochi gol che andremo a vedere con la costruzione per vie centrali è vero che Danilo in questo momento è sull'esterno però Danilo da lì va in verticale su McKennie che entra dentro alla difesa dell'Ellas la taglia come quel famoso Grissino che tagliava quel famoso tonno e quindi eccolo qua uno dei primi gol della Juventus per vie centrali è sempre complicato fare gol per vie centrali perché è logico che si vada a marcare lì solitamente gli avversari cercano di concederti lo spazio sull'esterno perché sanno che sull'esterno non ci sono i pericoli i pericoli avvengono al centro dell'area di rigore quindi solitamente gioca pure sull'esterno non c'è problema poi in mezzo cercheremo di essere un po' più solidi cercheremo di difendere meglio le vie centrali perché il pericolo arriva sempre dal mezzo ed è quando succede che la Juventus riesce a fare gol per vie centrali è una festa proprio perché è complicato fare gol in mezzo è complicato è molto più facile costruire sull'esterno e far nascere il gol da lì Di Bala con lo Zenit il primo dei quattro gol la partita migliore della stagione non accetto discussioni su questa cosa qui nasce da un piazzato era un calcio d'angolo poi è vero che il gol nasce da vie centrali però il gol avviene in questa maniera proprio perché la Juventus è con quella disposizione grazie a un calcio d'angolo quindi piazzato ancora una volta piazzato questa volta calcio di rigore la doppietta di Paolo Di Bala Federico Chiesa dalla sinistra sinistra punta l'uomo punta l'uomo e costruisce il gol dall'esterno poi è vero che si accentra però il gol viene costruito palesemente dall'esterno Chiesa a sinistra non importa dove lo metti destra a sinistra Federico Chiesa ti rende importante è farlo giocare con degli spazi riuscire a costruire gli spazi ma poi lui se li crea anche Alvaro Morata allora questo è vero che avviene per vie centrali perché Paolo Di Bala ora sta dando quel pallone in verticale a Morata che farà gol dal mezzo ma questo gol è palesemente costruito dall'esterno infatti pochi secondi prima Rabiot aveva la palla sull'esterno di sinistra dove lo vedete in questo momento in basso nel teleschermo allarga tutto a cercare Di Bala che si era allargato a destra dall'altra parte e poi va in verticale per Alvaro Morata ribadisco il gol si avviene per vie centrali ma viene costruito dall'esterno due volte prima a sinistra poi a destra per poi andare in verticale con la Fiorentina la magia di Juan il miracolo poi Quadrado l'ha messo senza problemi volevo crossare con la Fiorentina però è andata andata bene così però palesemente il gol viene costruito dall'esterno con Locatelli che prende il pallone in mezzo all'area allarga per Quadrado con una giocata individuale ci porta a tre punti pesantissimi dall'esterno prima chiesa a sinistra questa volta Quadrado a destra questo dovrebbe essere un input Bonucci con la Lazio rigore numero uno Bonucci con la Lazio rigore numero due due volte rigore due volte piazzato ci sono il Chelsea l'Atalanta ribadisco abbiamo fatto zero gol ne abbiamo subito i cinque sono state delle belle giornate quelle lì fantastiche e poi abbiamo la Salernitana attenzione perché l'1-0 di Paolo Di Bala nasce per vie centrali potete stappare lo scumante che stavate tenendo al fresco per Natale è ora di stapparlo adesso Di Bala e Kuluseschi vanno al dialogo e la Juventus trova il gol da lì questo è un bel gol il secondo gol che chiude la gara con la Salernitana è Bernardeschi che dall'esterno mette un pallone al centro per Alvaro Morata quindi gol costruito dall'esterno Quadrado ancora una volta con Genua magia tutta sua Quadrado ha fatto due gol uno da piazzato uno che nasce dall'esterno ma tutte e due volte si è messo in proprio lui invece il 2-0 di Di Bala è simile al quarto gol della Juventus contro lo Zenit cioè da una parte all'altra ricorderete che nell'analisi tattica del Genua l'abbiamo spiegato bene comunque il gol viene costruito dall'esterno prima da destra e poi da sinistra dove Bernardeschi poi scarica per Di Bala al centro dell'area sì ma il gol viene completamente costruito dall'esterno e poi siamo qui ormai siamo qui ne abbiamo parlato prima Moise Ken col Malmo un bel gol che vale l'1-0 quell'altra volta gli aveva data Resciglio questa volta gli aveva da Bernardeschi di Trivela la Riccardo Quaresma non ve lo dico neanche gol costruito da dall'esterno Alvaro Morata col Venezia dove si era sposato qualche anno prima proprio nella città lagunare come viene costruito questo gol? primo assist Luca Pellegrini con la maglia da Juventus che crossa dall'esterno ancora una volta la Juventus che trova il gol con un cross dall'esterno Desciglio Bernardeschi Pellegrini non mi importa questo è uno dei gol tipici della Juventus che abbiamo visto in questa analisi quindi abbiamo costruito 5 gol con un cross dall'esterno 2 gol con una giocata dall'esterno 2 gol che vengono costruiti quindi l'azione si sviluppa sull'esterno 4 su rigore 3 su calcio piazzato e soltanto 2 per vie centrali ricordate che prima abbiamo detto ci sono 3 modi di dall'esterno 9 gol quindi il 50% su 18 perfetto per vie centrali soltanto 2 l'11.11% e da fermo ben 7 38,89% c'è anche il grafico potete vederlo è molto molto semplice è molto molto simbolico la Juventus è una squadra che deve giocare sugli esterni perché è lì che c'ha i punti forti in mezzo invece ci va poco è più difficile far gol non abbiamo nemmeno la qualità per palleggiare quindi probabilmente ci serve sì un centrocampista qualitativo da mettere di fianco a Locatelli per permetterci anche questo spunto centrale è inutile prenderci in giro la Juventus è una squadra che sviluppa bene dall'esterno sull'esterno c'ha dei punti forti c'ha Chiesa c'ha Quadrado lo stesso Bernardeschi l'abbiamo visto tante volte in questa soluzione incredibile c'è tante volte De Sciglio incredibile inizia ad esserci anche Luca Pellegrini e quindi bene o male ragazzi se andiamo a vedere chi ha fatto i gol e chi ha fatto gli assist iniziamo a capire qual è il problema della Juve e cioè che tanti giocatori sull'esterno validi la Juve ce li ha e riescono anche a fare la differenza in mezzo invece o segniamo da calcio piazzato quindi rigore quindi calcio d'angolo quindi punizione o abbiamo McKennie che è l'unico centrocampista che si inserisce l'abbiamo visto è l'unico dei centrocampisti che compare qui se noi centravanti centravanti Morata e Ken devi pennellargli perfettamente la palla sulla testa e ci sono pochissimi gol dei centravanti in questa analisi potremmo fare la stessa analisi magari con un numero ristretto di partite con i gol che ci siamo mangiati e che quindi non sono entrati che non sono finiti a referto quindi bisogna migliorare quella statistica che dicevamo all'inizio è come la migliore con la statistica che dicevamo all'inizio di errori davanti alla porta facendo gol però non è una roba così facile cioè ci sono dei giocatori ragazzi che il gol non ce l'hanno ce ne hanno alcuni ma non ce li hanno come ce l'hanno altri e quindi Morata e Moise Ken ad oggi stanno mantenendo delle medie interessanti perché sono le loro medie solide hanno sempre segnato con questa regolarità mascherata altri anni con giocatori di fianco loro che segnavano altri gol e che quindi in questo momento noi abbiamo bisogno di questa cosa qui di un giocatore che ci possa garantire dei gol quindi abbiamo due possibilità dato che la Juventus è una squadra che ragiona molto bene sull'esterno e dall'esterno costruisce delle azioni importanti e abbiamo visto soltanto due tre colpi di testa al massimo su tutti e 18 è brutto abbiamo bisogno di un calciatore forte di testa che giochi lì davanti e che possa sfruttare i tanti cross che la Juventus mette perché la Juventus con i cross diventa una squadra interessante se al centro dell'area di rigore invece non hai dei giocatori che hanno finalità importanti che non riescono a colpire il pallone di testa non riescono a colpire il pallone di prima che non riescono a mettere giù e allora dopo fai fatica e allora dopo fai fatica e sei costretto a giocare per vie centrali dove lo sappiamo non è che hai tutta questa qualità e quindi se devi fare una cosa fatta bene di comprare un centrocampista che ti aumenti la qualità all'interno della zona centrale del campo è un attaccante che ti trasformi in gol tutti i palloni che passano poi è vero che ci sono tanti altri problemi nessun io sono aperto a qualsiasi tipo di discussione non metto da nessuna parte il no questo è sbagliato tutto è giusto tutto è giusto l'importante è che se ne parli che si vada ad analizzare la situazione la situazione di oggi è questa la Juventus è una squadra che sviluppa tantissimo il gioco sugli esterni e riesce a concretizzare tante volte dall'esterno abbiamo bisogno di aumentarla però questa percentuale abbiamo bisogno di un calciatore che là davanti non dice permesso scusi devo passare per cortesia può farsi un po' in là no arriva e te la butta dentro bello brutto il gol che sia non ci interessa perché stiamo segnando poco siamo il tredicesimo attacco della serie A questa cosa non può essere vera siamo imprecisi siamo la peggiore squadra la salernetana per precisione là davanti non ce la facciamo poi è vero che come vi faccio notare su twitter quella statistica non la puoi prendere solo così perché magari dei tiri ai fatti che ne so da centrocampo è beccato lo specchio della porta ma è ovvio che non puoi fare gol sì però tanti altri ce li siamo mangiati in maniera clamorosa e dobbiamo sfruttare più gli esterni cioè non so più io non ho altro modo di dirvelo che chiesa da una parte quadrato dall'altra pellegrina da una parte De Sciglio può essere benissimo De Sciglio finché non torna Danilo dato che De Sciglio abbiamo visto che comunque due o tre cross te li ha messi in questi 18 gol te li ha fatti portare a casa lui poi Morata e Kens dovranno dare il cambio Di Bala e Bonucci sui piazzati è abbastanza bene poi Di Bala uno l'ha pure sbagliato con la salernetana nell'ultimo secondo però facciamo pochi gol e quei pochi gol che facciamo li facciamo dall'esterno e quindi abbiamo messo un giocatore che i cross che arrivano dall'esterno te li converte in gol dall'interno un centro avanti e questa è l'analisi che vi ho portato fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con me e a proposito di tutti i nomi degli attaccanti che circolano ho fatto proprio due video questa settimana uno su Icardi Cavani e Vlaovic e un altro su Scamacca Martial e Aubameyang dateveli a vedere e fatemi sapere chi tra questi sei andreste a comprare